In questo video... Tadrilo, le sto correndo! Andiamo a Campo Scuola! Forza, 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 forza! 3, 2, 1, go! Ragazzi, tra poco siamo arrivati, resistete per cortesia, non vi fate riconoscere, tra poco siamo in aeroporto! C'è la gita oggi, c'è la gita! Ilari, Ilari, devi mandare in gita, dai, svegliati! Ilari, svegliati, guarda che bella giornata! C'è la gita di fine anno, alzati! Ilari, Ilari, dai! Che cosa hai in faccia? Che cosa hai in faccia? Ilari, sei tutta rossa! Come? Non è che hai la maricella? No, non è possibile! Lo sai vero che papà non ti manderà mai in gita? No, io ci voglio andare in gita! No, io ci voglio andare in gita! Che c'è? Ragazzi, non c'è la gita oggi, dobbiamo... Ilari, ma è tutte in bolle rosse! Ma tu avrai la maricella, il morbillo o qualcosa! Ilari, tu non puoi andare oggi alla gita! No, non ci fanno! No, tu non puoi! Adesso dobbiamo chiamare il dottore! No, io ci fanno! Dobbiamo chiamare il dottore! Ilari, Ilari, ho un'idea, ok? Per farti venire con me! Sì! Però tu devi dire sì a qualsiasi cosa dice tuo padre, dice che devi rimanere a casa, dici va bene! E adesso tu ti metti a letto perché chiamiamo il dottore e dopo andiamo a fare anche la visita, ok? Perché tu o hai la maricera o un morbillo, non puoi andare a scuola, quindi mettete a letto, va bene? Sì, va bene! Oh, va bene, brava, così mi piace! Nicola, tu sbrigati che stai facendo tardi! Sì! Ragazzi, ma ancora pronti che siamo? Ma non lo sapete oggi dove dobbiamo andare? Ma perché Nando, dove dobbiamo andare? Che vi siete inventati adesso? Ma io non sapevo niente! Io non ho voglia, sono stanca! Che dobbiamo fare? Ma come dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare la gita di fine anno! Ma che bello siete dimenticati! Nando, ma a noi non c'è stato detto niente, quindi non abbiamo portato nulla per il campo scuola! Vabbè, allora se le cose stanno così, vuol dire che mi tolgo tutto e la gita non si fa, rimaniamo a scuola, va bene? Sì, è vero! Andiamo in campo scuola! Andiamo in campo scuola! Oh 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 oh! Andiamo in campo scuola! Oh 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 oh! Andiamo in campo scuola! Oh 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 oh! Ah, scherzavate eh? Perché Nando, viene anche tu? Come vengo anch'io? Io sono il primo! Allora Nando non è tutti al campo scuola, ma è anche... Nando non è un campo scuola! Oh 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 oh! Nando non è un campo scuola! Oh oh oh! Nando non è un campo scuola! Oh oh oh! Oh oh oh! Allora dunque, oggi interroghiamo, interroghiamo... Chi deve interrogare oggi? Non ricordo. Ma qualcuno dovrà interrogare. Interrogare? Ma questo è pazzo! Noi dobbiamo partire per la gita di fine anno! Non ha capito niente. No. No, questo è il provericato eh. Questo è il provericato. Ma lui ne è consapevole. Ragazzi, ma che? Ma perché vi siete vestiti in questo modo? Nando! Che fa il cowboy lei a scuola? Perché state in questo modo? Oggi vi interrogo a tutti allora eh! Stangione, perché lei non lo sapeva che oggi c'era la partenza? Ma di che cosa state parlando? A fine anno si fanno gli esami, non i campo scuola e le cite! Ma come? Ma io mi ero messa tutto dentro la valigia perché dovevamo partire! L'ho messa tutto dentro i rivellini perché dovevamo partire, 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 partire! Aspettate un attimo! Senti, ma tu che hai portato? Allora, ho portato il costume. Poi? E il costume? Già l'hai detto. No, no, il costume. Sì, e poi? Poi il costume. Un'altra volta? Il costume. Sì, ma lo sai che dove stiamo andando lì non c'è il mare, vero? Ma come no? No. E a proposito, tu non ti devi inventare il proprio niente perché quando andremo lì tu dormi al massimo con i ragazzi delle altre classi oppure... Oppure al massimo puoi dormire in camera con me, tanto io sono da sola. Ah, ma se sei da sola allora vengo io con te. Che cosa? Ma no, tu non dormi con l'anno in caposcuola! Hai capito che non dormi con l'anno in caposcuola! Senti, tu non iniziare che già mi stai lovinando in caposcuola, ok? Ma bene, ma bene! Basta! No, vabbè. Soccata. Basita. Soccobasita. Siamo pronti ragazzi, andiamo? Si parte! Vado bene così? Tu pensavi che ti lasciassi a casa? No, verrai con me. E dai ragazzi, si va! Si va al campo scuola! Siamo pronti! Sì, andiamo in cita al mare, tutti insieme! Sì! Sì! Sì, Giovanni, ma com'è il vestito? Da mare! Da mare? Ma non andiamo al mare! Non andiamo al mare! No! Andiamo a Vite la Paris! E non c'è il mare lì? No! Neanche un po' d'acqua? No! Per fare un giro con lei? No! Allora mi cambio! Sì! Già! Vado! E si sbrighi? Va bene! Vada che dobbiamo partire! Va bene! Coraggio ragazzi, è arrivato in culma! Se non facciamo tanti, perdiamo anche l'ero! Su, coraggio! Dai, dai, facciamo! Non so, ci facciamo tanti! Dai! Nicola! 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 Perché non ti anzi? Nicola, scusa, ma che cosa hai messo là dentro? Ti sei portato a tutta la casa? Ah! Ah! Non so! 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 Tu non sei venuta a scuola per tre mesi, io non è che mi sveglio una mattina e dico no, pure mia sorella Romo deve venire alla cita. E io invece ci vengo alla cita! Ma esistante, per favore! No, non te io! Tu perché non volevi portare con la sorella? Eh, infatti! Eh, perché non lo vuoi più bello per tre mesi! Col, col! Beh, mamma Loredana, ascoltami! E Ilari questa mattina si è svegliata, che ha tutte bolle, quindi sicuramente la mangiare a un morbido, ovviamente io non la posso mandare in gira. Certo che l'ho chiamato il dottore, infatti adesso Ilari dormisse a letto, sta dormendo, Nicola è andata in gira, invece Ilari è rimasta qui a casa. Io adesso la sveglio e la porto dal dottore. Tra poco, in questo video. Io ho fatto l'ascommento perché tu ci continui a provare con il mio ragazzo! Ma chi ci trova? Stop, e vi lascio qui, scendete tutti quanti perché non vi sopporto più. Sì, adesso la sveglio e la porto dal dottore, ok? Va bene, ok. Ti faccio sapere, altro poco, ciao, ciao. Ilari, Ilari, da svegliati che dobbiamo andare dal dottore. Ilari, da svegliati che dobbiamo andare dal dottore, non ti facciamo controllare queste bollicini rosse che a me, perché non si capisce bene che cosa è là. Io ti sveglio, uno, due, tre. Ah, allora ti sto dicendo, adesso tu ti prepari, andiamo a controllarci dal dottore. Ragazzo, non è nulla, quindi, ma ti darà una cremetta, una cosa, così. Ilari. Ilari, prima di le macchie rosse, ma adesso sei anche pelosa. Ilari, Ilari, dove andava a finire? Hanno messo pelucio, cioè non ci vedo, mi hanno preso il giro. Vuol dire che Ilari è andata alla gita, di nascosto, senza di più nulla, doveva rimanere a casa? Questo è anche il gruppo di ricordo. Adesso dove la vado a cercare? Dove la vado a cercare? Tanto la devo trovare, la devo trovare. Dai ragazzi, andiamo, vedo il pulma, forza che si parte. Veloci. Che si fa tardi, tanto eh. Mi ha venuto, ma siamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Forza, forza. Ma quanto dobbiamo camminare ancora? Io sono stanca. Ah, ci arriviamo. Aspettate, stiamo arrivando. Ragazzi, veloci, non è che siamo qui a dormire. Forza, sul pulma, veloci. Calma, calma, ragazzi, non vi preoccupate, ci penso, andate calmo, è stato a tenere da San Giovanni, piano e state attenzione. Veloci. Calma, calma. Veloci. Calmissimi. Velocissimi. Anduno, ma calma, calma. Forza, 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 forza. Andone, andone, andone. Andone, andone. Ilari? prima di partire già ci siamo fatti male forza ragazzi venite su eccoci a che saliamo eh buongiorno massimo ancora voi è lui è massimo ancora voi è un piacere vederla massimo va bene faccio l'appello lei mi raccomando le solite regole perfetto allora facciamo l'appello pronti ok allora sei uova un chilo di farina mescolare bene fare l'impasto praticamente lo facciamo riposare una mezz'oretta e dopo di che si stende al forno e la pizza è pronta facciamo l'appello allora lucrezia c'è? dai sali forza Anna c'è? presente sono felicissima sali Anna per favore aiuto Sara ma che cosa fai? ti ho fatto uno sgambetto perché tu ci continui a provare con il mio ragazzo ma chi ci trova? e qui ci siamo questi ricominciano come l'altra volta ma non è possibile ragazzi è un po' di disciplina ok facciamo salire Ilari 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 assente ma Ilari come assente? ma Ilari ieri sera ha detto che veniva ragazzi non c'è Ilari ma controlla dentro la valigia no la mia valigia adesso non c'è più nessuno se c'era Roma ci sarà anche Ilari no? è ovvio non c'è qui dentro non c'è però c'è un modo San Giovanni se c'è uscirà vai 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 Nicole vai Ilariii mi sta il tempo? da tre ora sto correndo pronto papà Stefano qui si fa tardi l'aereo sta per decollare il flat si apre il motore comincia poi ci sono le turbolenze papà Stefano è pericolosissimo la turbolenza ecco la turbolenza lo vede la turbolenza? guardi che turbolenza eh? e allora si deve sbrigare e allora si deve sbrigare e allora deve fare in fretta e deve fare in fretta deve fare in fretta deve fare in fretta deve fare in fretta ragazzi ma che state facendo? papà Stefano un attimo solo che state facendo? niente mi state seguendo? nooo ah San Giovanni se seguiamo così l'aereo se lo scordiamo parte e noi seguiamo a faa io te lo dico e poi fa come te pare avviso San Giovanni che sto arrivando e non far partire il pullman perché? perché a me piace dopo di stare a Parì e poi ci voglio stare nella gita di fine anno ti prego ricorda perché mi ha preso il maestro siamo tutti siamo tutti ah no Nando? c'è Nando? ma che senti? ha pure l'arbitello fai aprire ah Nando ma che? ma molta la tua torturata va sta per partire l'aereo ragazzi veloci veloci se no lo perdete lo perdete allora ci siamo tutti chi arriverà direttamente in aeroporto e speriamo che faccia in fretta altri metti perdiamo e andiamo e andiamo e andiamo ci siamo tutti cioè non manca più nessuno non manca più nessuno ci siamo tutti eccomi sto arrivando ma che fa San Giovanni sta andando via non mi sta spittando ma io sono la predite ma chi è che urla scusatemi San Giovanni ci signor San Giovanni abbia pazienza mi scusi eh chi è? forza Massimo andiamo San Giovanni ma che cos'è un partito? vada Massimo è la presite eh che facciamo la lasci qua che lei mi ha gradito col capo dei babbeis e adesso vuole venire la lasci sta la facci sta la 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 San Giovanni mi faccio aprire lo sportello mi faccio aprire lo sportello che cosa fa ma lei si rende conto? si rende conto di cosa sta facendo mi sta lasciando qui io la presine si rende conto vero? mi apro il portellone la prego lo faccio aprire lo faccio aprire da noi non lo faccio aprire da noi San Giovanni ma ferma sto bufano salire la preside no ma questa ma facciamola no 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 massela qui che faccio mi fermo o non mi fermo comunque la preside ragazzi qui comando io fino a fine anno comando io poi mi licenzeranno vada Non mi sta anderta Massimo questo non comanda più niente se ferma e facciamo salire la preside Ragazzi se la preside non viene E noi in vacanza possiamo fare tutto quello che ci pare Sì La preside non viene Oh 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 La preside non viene Oh 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 Se la preside non viene Voglio andare alla gita Oh 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 Non andate via senza di me Non andate via senza di me Andavete una mano Venga preside Mi dia una mano Mi dia una mano Nando Che cosa fa conciato così in lei Nando Ma si rende conto con quel capello rosa Questa che cos'è Che cos'è questa Buongiorno presti Mi dia questo bastone che adesso mi serve questo bastone Perché lo darò in testa a tutti Dove sta San Giovanni Dove sta San Giovanni Adesso le prende San Giovanni Massimo parta che c'è un acquato Andiamo via Ok perfetto io parto allora La preside è montata San Giovanni ha preso due o tre bastolate Perfetto andiamo via Eccone qua Nicola io sto qua Qua sei arrivato al pool Come siete partite Perché non mi avevo rispettato Dai Vabbè vado direttamente all'aeroporto Se adesso devo affrontare altri dinosauri alla foresta Devo affrontare Per andare in vacanza Devo andare all'aeroporto Mi devo sbrigare Vai Non ci facciamo vedere È buonissima questa pizza Sì ma lui non vuole che noi mangiamo sul pool Già l'ho finita Io ci vedo Nicole Io ho fame Mi dai un pizzetto Ma tutti quanti hanno la pizza Io non ce l'ho la pizza Ho fame Ah perché tu non hai la pizza No Ora litigano Ecco alla Speriamo Ecco Mi devi dare la pizza Questa pizza è mia Tra poco in questo video Ma non è che è quello il nostro aereo 3, 2, 1, go Bibi 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 Mi spieghi perché hai dato la pizza a Anna Poverina Era senza mangiare Vuoi che te ne do io la pizza? Non vuoi un pezzetto? Eh ce l'hai Ah era questa la pizza Sì Vabbè Ragazzi ma per me un pezzettino di pizza non c'è Anche io devo mangiare Sì 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 Nando C'è sì C'è anche la pizza Sì Ci siamo finiti tutta la pizza Ragazzi ma che state mangiando? No No Massimo ha visto questi ragazzi sono indisciplinati Preside Ricordi un po' le regole Le famose 3 regole che devono fare 3 Le 3 regole Preside Se ricorda lei San Giovanni le regole sono 3 3 Queste sono 4 Dice E queste sono 2 Dice 3 San Giovanni Le 3 regole sono Non mangiare Non cantare E non fare i tuffi Soprattutto I tuffi Come i tuffi no? Che cosa c'entra nei tuffi adesso? Eh i tuffi Massimo lei a forza di stare vicino a San Giovanni Mi sta prendendo una strada che non va bene per niente Comunque le 3 regole sono le 3 regole Brava! 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 Grazie mille! Musica Non scappate che vi prendo Sto scappando, sto scappando, sto facendo un passavanti, sto correndo, l'estate sta arrivando Guarda lì c'è Nando, 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 il pidello, il maestro, quel tremendo Non scappate che vi prendo Nicole 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 Sinceramente Nando Sinceramente mi hai stancato con questo Nando, 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 Nando Russi come un orso marsicano Mi hai stancato, stavo con la preside, stavo dormendo L'orso marsicano, che cos'è? Poi a scuola te lo spiego l'orso marsicano, adesso svegliati e basta con questo russare Ma quanto manca l'aeroporto? Che tra poco porti l'aereo Manca pochissimo, alcuni minuti e siamo arrivati Abbiate pazienza e state tranquilli Funghetti, noi stiamo andando al campo scuola di fine anno a Disneyland Paris in Francia E voi siete mai andati in vacanza? Se sì, dove? Scrivetelo nei commenti E iscrivetevi al canale se volete venire con noi in questa fantastica avventura Fatelo adesso Ma non è che quello è il nostro aereo? Anna, ma come fa a essere il nostro aereo se ancora siamo qui? Ma buongiorno, eh? Buongiorno Dammi non è in bagno! Ossiai! Ragazzi, dame che farete Ma stai a far coppia la pezza Andiamo! Andiamo! E' buongiorno! Forza, se stanno con Giovanni attaccati a me Autista, per favore di andare in bagno Ti vuoi fermare? Ragazzi, tra poco siamo arrivati Resistete per cortesia Non vi fate riconoscere Tra poco siamo in aeroporto Ah, dice preside Dice preside? Ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1, go! Bibi, 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 bibi La facciamo sul sedile Se non fermi all'autogrill Bibi, 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 bibi La facciamo sul sedile Se non fermi all'autogrill Bibi, 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 bibi La facciamo sul sedile San Giovanni! San Giovanni! Questa era la prima regola Non cantare! Non dovete cantare ragazzi! Avete sentito la preside? L'avete sentita? Ha visto che si hanno smesso subito E lei che cosa sta facendo? Sta continuando a cantare dopo i ragazzi La pipì no Ma non ci vergogna San Giovanni Va bene, niente pipì No, la pipì no Fin quando non arriviamo San Giovanni La pipì no Nemmeno la cacca No San Giovanni Nemmeno la cacca Non l'ha fatta stamattina? Adesso non ricordo bene Se l'ho fatta preside Ma comunque è importante La pipì è un discorso La cacca E invece è importante Te la faccio fare dopo io San Giovanni Non si preoccupi Arriviamo Intanto arriviamo Ho messo tutto in conto Tutto in conto San Giovanni Tutto in conto Tutto in conto Va bene Massimo Arriviamo che dobbiamo fare la pipì e la cacca Forza Andiamo Massimo Dai Mi piace Stop e vi lascio qui Scendete tutti quanti Perché non vi sopporto più Vi avevo detto di non Cantare Suonare Ballare Fare tuffi Eccetera eccetera Scendete tutti quanti Non abbiamo fatto i tuffi Massimo Però se dobbiamo scendere Scendiamo Ci lascia di nuovo qua Vi lascio qui Forza scendete tutti quanti Ma sta scherzando vero Massimo? No per niente Ci lascia qui? Vi lascio qui Via Forza Ci lascia qui Ci lascia qui San Giovanni Questa è tutta colpa sua Tutta colpa sua San Giovanni Tutta colpa sua Ma Massimi Fa bravo Dai fanno per me Che ti voglio bene Non ci lascia qui Portaci all'aeroporto Siamo quasi arrivati Ma Massimo è sicuro che ci stiamo qui Deve scendere Di nuovo prima di arrivare l'aeroporto Deve scendere Per fortuna Via 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 Massimo Forza fuori 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 Anche lei preside Fuori Ma come si permette Massimo? Prego fuori La prego deve scendere Non vi sopporto più Ma che comportamento è questo Massimo? Non vi sopporto più Non ci sopporta più? Prego Prego Se ne rossi di prunerò anche lei Massimo Faccia come vuole Bravo Faccia come vuole Prego Prego preside Arrivederci Addirittura un calcio Si se lo metta Anzi ve lo merita da tutti quanti Ma come è possibile? Un calcio A me Prego preside San Giovanni Io sia tranquilla Prego Prego Signor San Giovanni Lei come si è permesso Di dare un calcio alla preside Lo sa io che potrei fare In questo momento Ma San Giovanni Ancora famose scenette Ma lasciamo per Ma che voi ragioni E' un buon casino Che finisce mai Io potrei distruggerla In un momento Io ho distruggerle Le regole Voi non le avete rispettate Lei non deve toccare la presa Altrimenti Io la rispondo San Giovanni San Giovanni San Giovanni San Giovanni Nando lei è una persona seria Io l'accompagno La ringrazio La ringrazio Massimo Me l'aspettavo Per una mossa seria Grazie a lei Ecco Facci piano Perciò una canola Che mi fa male Io la ringrazio Per tutti i complimenti Che mi ha fatto È una brava persona Però Grazie a lei Perciò che mi ha accompagnato All'aeroporto Grazie a lei So due volte Che ce lascia a piedi E stavolta A mezza una strada Mancava poco Che arrivava all'aeroporto Te la sei meritata A sta torturata Va bene Massimo 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 Piano io non posso camminare Nando l'aiuto io Non si preoccupi Io non ne la faccio Piano piano Guarda Ragazzi Non mi ha preoccupato Che mancheranno 150 km Stiamo arrivati Nel lavoro Ciao Dai ragazzi Abbiamo perso l'aereo San Giovanni Sì 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 Addio di Io mi fermo Mi metto a sede Me ne frega più niente Da agita Mi dispiace Io vengo con lei È vero Il nostro aereo Ecco È il nostro aereo Quello ragazzi Sto andando via Prendi È lui Aspettiamo qui Io penso che Nando ha visto E tornerà indietro Sì Tornare dietro aereo Nando Per favore Per me tornerà indietro Cioè ha visto E tornare indietro Nando ma come è possibile Ma gli aerei Possono tornare indietro Secondo lei Sì perché io Quando pilotavo L'aereo piccolo Da turismo Sì Mi succederà Cosa è che io Girare Sì Vabbè basta Non torna indietro L'aereo Non torna indietro Nando per favore Andiamo va Ciao a tutti amici Benvenuti a questo nuovo Io Io sono E lei è Ilari Guardate dove siamo Dove siamo Ma non siamo ancora a Disneyland Ragazzi Stiamo andando a Disneyland Siamo voi Ragazzi È stato veramente Pieno adesso un disastro Perché ce ne abbiamo scotati i documenti Siamo tornati a casa Stiamo per perdere l'aereo Ma dovete assolutamente Continuare a seguirci Sarà un vlog epico E insieme a noi C'è anche Vincenzo C'è anche la mamma di Ilari Che è un oggetto misterioso Che è di spalle Che ci sta accompagnando Siamo pronti Ragazzi ovviamente Il fiadone Perché Stiamo per perdere l'aereo Quindi assolutamente Non lasciateci da soli Seguite il vlog Perché stiamo per stare Per la prima volta Dentro L'aereo Dentro un aereo Secondo te ma com'è un aereo Dobbiamo masticare la gomma Nell'aereo Che dobbiamo fare Nell'aereo? Masticare la gomma Sono nell'aereo Vuoi dire un po' Com'è qui l'aeroporto? Comunque Chi arriva per ultimo All'aereo Perde Ma se parto solo io Ma vogliamo far girare mamma? Ah ma girati Tutti i nostri amici vogliono sapere Niente Vabbè io vado Ciao Ci vediamo a Parigi Ciao Allora ragazzi Questo è l'aeroporto È grandissimo veramente Guardate Qui ci sono I voli Le cose Ecco mi stavo perdendo Allora adesso andiamo Prima A comprare le gomme Ecco qua Ci sta accompagnando anche la mamma di Ilari Che alta quanto a lei Ilari ma com'è possibile Mamma alta quanto a te Allora Come vedete Adesso siamo all'interno Guardate Siamo aperte le porte Verrete con noi Proprio fino a dentro l'aereo Quindi vedremo dove ci mettiamo seduti Quali saranno i posti Se stiamo vicino al finestrino Speriamo che stiamo vicino al finestrino In modo che possiamo vedere Proprio quando l'aereo si alza Ma la domanda è Voi siete mai stati sull'aereo? Scriveteci nei commenti Se siete stati mai sull'aereo E dove siete andati Che noi vi leggiamo a tutti quanti Allora Qui c'è la scala mobile Per andare sopra l'aereo Giusto? Un gattino Siamo pronti ad andare sopra la scala mobile? Allora ragazzi È veramente gigante qua Voi o non ho Sei carica? Sì Super carichi Sei carica? Ma Ila Ila te lo dico una cosa Ila corri guardami C'è stato un problema grandissimo Quale? Non possiamo più partire Sì No no veramente Guarda che lo stesso Guarda che lo stesso Non è uno scherzo Non è uno scherzo Ila non è uno scherzo Allora provo a giurare Cosa? Provo a giurare No no io non giuro Non ti può giurare Ila guarda un po' chi c'è lì Eh? Eh? Com'è? Sì Andiamo qui e andiamo lì No Non lo sai Non so qual è il nostro Secondo te è quello O questo qui? Qui? Ma sei emozionata un po'? Sei emozionata? Ma per me è quello Perché quello è rotto Quale è rotto? Questo Veramente Perché è rotto? Che è rotto No ma da lì mettono le valigie papi Non è rotto Andiamo? Colì Stiamo entrando nell'aereo Va papi Camminami davanti Ila Eccolo l'aereo Allora Dobbiamo cercare il posto Ila Tipo il treno Però vola Sei emozionata? Sì Stiamo parlando 150 Adesso siamo in aereo Siamo saliti sull'aereo Allora guardate Questo qua è Ila Che stai facendo Con questo motore? Dove? Oddio no Non lo toccare Ila Perché se clicchi questo Forse Che può fare questo bottone? Questo può volare l'aereo Dici? Questo bottone qua Si provo? No 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 Se poi vola Eh No Ila No no Non lo spingerò Ho paura No ho paura Ila No 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 Boom Innanzitutto Cosa ne pensi dell'aereo? Qual è la tua Fino ad adesso? Qual è il tuo giudizio Sull'aereo Fino ad adesso? Cosa ti è piaciuto Dell'aereo Fino ad adesso? Niente A calcolare di partire Allora come vedete Ecco qua Le persone si stanno mettendo seduti Noi abbiamo questi due posti Per fortuna Ilari Ilari è vicino al finestrino Così potete vedere benissimo Tutta la visuale di quando si alzerà l'aereo E se vuoi chiudere Chi ha chiuso? Chi ha chiuso? Buona parte l'ho chiuso perché ho paura da vedere Cosa? Com'è paura? Perché mi hanno le vertissime Che ti vengono? Le vertissime Ma tra l'altro ragazzi Dovevi sapere che Ilari è anche un po' raffreddata purtroppo questi giorni Vero? Non so perché Perché sei raffreddata? Perciò Non lo sappiamo Mi strima perché Ho le vertissime Ilari Ma che sta dicendo? Ma che lingua hai? Francese Brava è un francese Io ho fame Per cui siamo? Hai fame? Non è ancora ora Ah però mi sa che ti ho portato dei panini Lo sai? Mamma Ah aspetta guardo nello zaino Ci siamo? Stiamo per partire Ilari Ma hai paura? Ma di chi? Non è certo che deve partire Ma no Ilari Eh no La non vedo Guardate stiamo per partire Siamo partiti Siamo partiti ma ancora non si è alzato Manca poco Quanta fame avevi scusa A bocca chiusa Brava Quanta fame avevi? Un mondo Allora tra poco Stiamo per partire Ora ci mettiamo le cinture Tutti quanti si sono messi seduti Credo che abbiano anche chiuso le porte Tu? Ma Ilari Ma lo sai che mentre si viaggia Non possiamo mangiare Per tutto il tempo Non è vero Scherzetto Che è sta faccia? Ma che facciai? Sono poco curiosa di vedere Parigi Sei curiosa? Ma lo sai cos'è Parigi? Lo sai com'è Parigi? Eh? Nemmeno io non ci sono mandato Ilari sta per partire Guardate Aspetta Siamo camminando Ilari ma che hai paura? Ma no L'hai acceso i motori Stiamo per partire Perfetto Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura Ho paura E di chi c'ha paura? Poi Ho una terra Fa un rumore brutto Ma no Siamo per partire Vediamo tra quanto parte Perché non lo vuoi vedere? È partito? No no Ancora no Eccoci eh Ci stiamo per alzare Vediamo un po' Non ti girare Se hai paura Siamo brutti 3 2 2 1 Eccolo qua Eccolo qua Tutti avanzati Guarda Papi guarda fuori Ilari guarda fuori Guarda fuori Guarda la casa è piccolissima Guarda Non è tanto brutto Certo che non è tanto brutto È una piccata Guarda Ilari guarda il sole Ragazzi Sembra siamo andati a fare un buon Natale Allora com'è stato? Eh? Com'è? Bello Amici ma voi siete stati a Parigi? Ma se voi siete stati a Parigi Scriveteci com'è nei commenti Se non siete stati Potete venire Anzi Non venite perché È troppo brutto Perché Si metterà un'ora All'elicottero L'elicottero? È così quello di fare l'aereo Ma siamo arrivati Ragazzi Siamo arrivati a Parigi Sì Dentro a Parigi Sì Dentro a Parigi Siamo appena Viaggio Belle È stato emozionante? Sì Come andata? Bene Ma che c'è scritta in questa mascherina? Vediamo se lo sai Vincenzo No Vincenzo Guarda bene Titta Ma che cosa è Titta Ma che cosa è Titta? È la F di What The Factory What The Factory è dove ci sta Ninna e Matti Dove siamo tutti amici Capito? Vincenzo Vincenzo Mamma Giulia Vincenzo non è Matti No Vincenzo non è? Matti Matti Vincenzo è Matti? Sì Come Vincenzo è Matti? Vincenzo Ma che fischi? Allora dobbiamo mettere il giubbotto perché credo che farà un po' freddo Ma aereo sono messo due ore e più Quanto? Due ore e più No un po' di meno Comunque siamo arrivati Vogliamo far vedere l'aeroporto Possiamo vedere gli occhiali di Vincenzo Facciamo vedere anche gli occhiali di Vincenzo Ma che belli occhiali Hai visto? Sono proprio stupendi Facciamo vedere allora Guardate un po' Ecco l'aeroporto Guardate È bellissimo Guarda c'è un aereo gigante Amici Guardate che bello qui Ma Ma che stai a fare? Ilan ma che fai? Ma non arriveremo mai così Ma così Topolino diventa vecchio Porca miseria Corri là Corri Corri che siamo ripassi da soli Quindi ragazzi sta partendo una gara qui all'interno dell'aeroporto In Francia Siamo in Francia ragazzi ma sono felicissimo Ragazzi sono super emozionato Ilan Ma perché stiamo correndo? Scusate Che hai detto? Che senti? Dentro di pancake Di pancake Ma no In Francia I pancake sono in Inghilterra Ma sai che qui non li fanno i pancake eh? Ma c'è il pancake C'è il pancake Come dice il pancake in francese secondo te? Pampa cake Pampa cake Pampa cake? Allora Ila dobbiamo prendere i bagagli papi Se no rimaniamo tre giorni vestiti così che ne dici? Deva prendere il bagaglio Deva prendere il bagaglio E poi Arriviamo Forse Ci faremo arrivare a Disneyland Quindi ragazzi Rimanete assolutamente attaccati al vlog Non staccatevi Perché dovete vedere il nostro arrivo O sai che ho un'idea? Possiamo fare un 2-3 stella Mentre aspettiamo che ci stiamo annoiando Guardate se barra perché se no rifacciamo tutta una capola Pronta? Vai 1-2-3 stella Mi sembrava che ti eri mossa Ti sei mossa? No Beh, adesso non è barato 1-2-3 stella Cazza buzza No Mi sembrava 1-2-3 stella Si è mossa qualcosa qua? No 1-2-3 stella No 1-2-3 stella Ok Vabbè Vabbè Forse stanno arrivando le valigie Andiamo a vedere Che ne dici? No Adesso troppo a me Anzi Mi farò una scherzetta 1-2-3 stella Ci ho visto un altro passino Ma se non è stato nemmeno mossa Ila Io sto rubando Guarda quanto stiamo rubando Al solito ho vinto io Eh non hai vinto te Ila Forse è un po' barato Non lo so Vabbè forse però ho perso come sempre ho perso quindi devi scegliere un bel premio Compri Topolino quello vero Topolino quello vero Topolino quello vero? Sì No no Ila è impossibile Costerà un miliardo Compralo Ma come faccio a comprare Topolino quello vero? Compralo Ma non posso comprare Topolino vero Compralo Ma non ce la posso fare Compralo Vabbè arriviamo lì e poi vediamo se lo posso comprare Aia mi sta cascando Stiamo andando a prendere i bagagli Sono un po' stanco sudadissimo E te invece U Ila Ecco il nostro Ila Questa è sua Ila Sì sì Ila L'abbiamo cambiata prima è vero Papi Guarda che c'è scritto qui Che è scritto? Sì Pollari Stefano Ti metto dentro te Ma ce la fai a portarla? Eh? Facciamo una challenge Se riesci a portare la valigia fino alla macchina dove ci porta Disneyland Vinci Lo dici dei nostri amici Vai Prova Ok Attenta Attenta Cioè la sfida era che lei doveva portare la valigia Invece è successo adesso io porto la valigia e lei sta sopra addirittura Senza cadere? No vabbè Non doveva finire così Ok entriamo? Sì Vai Ma Ah tu dobbiamo salire dietro mi sai la No Qua Eh? Sei sicura? Sicura E dove dobbiamo entrare noi? No Allora la sfida è che se riesci a chiudere lo sportello possiamo partire Vai salta Eh no quasi Allora ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa intervista doppia Ma Questa è un'intervista doppia Dentro la macchina Ma dobbiamo dire al signore dove ci porta Sennò questo non ci porta a casa È vero È vero Lo dico io Scusi ci puoi riportare in Italia? In Italia? No No a Dinsa in Parisi Dove? A Dinsa in Parisi Oggi? Eh Eh ma non lo so se lui lo sa eh bisogna dirglielo Ma non so se Ma lui parla italiano Dimmi qualche cosa Nel senso ma lui parla italiano? Non lo so Non lo so proviamo Vabbè proviamo Allora io ho un'idea Chiedilo Io ho un'idea Proviamo a parlare in francese E magari lui capisce che ci deve portare a Disneyland Proviamo a dire un po' di parole a caso E magari Che sai? Che sappiamo dire in francese? Grazie Grazie Poi? Prego Vediamo se capisce Poi? Dinsa in Parisi Allora Ci abbiamo tre parole Grazie Prego Dinsa in Parisi No Dinsa in Parisi Parisi Scusa Brava E mi sa che servono cinque parole Per sbloccare l'autista Ce ne abbiamo tre Ne mancano altre due Ehm... Gra... Già che l'abbiamo detta Un'altra parola Escargo 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 E poi? Ne sappiamo un'altra Ehm... Champagne Come? Champagne 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 Ripetiamole tutte Se no questo non capisce allora Grazie 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 Prego Dinsa in Parisi Dinsa in Parisi Dinsa in Parisi Escargo E... Champagne Champagne E... Amores Amores? Ma che parola è in francese? Si E che vuol dire amores? Amores Ah quindi basta aggiungere la S Ma vogliamo sapere se i nostri amici sanno qualche parola in francese? Si Così magari Così qualche parola a caso se la sapete scrivetela nei commenti Ma tu parli francese perfettamente No Parola possiamo leggerla What house of a Cartier? Certo come no? Ragazzi siamo arrivati Siamo arrivati Ecco qua questo è il fuori dell'albergo E' Natale qui Si andiamo Aspetta Ila Domani lo sai che giorno è qui? Natale 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 quindi chi verrà? Natale Si ma verrà Babbo? No Babbo Natale Babbo Natale Babbo Natale Facciamo un po' vedere il fuori Guarda che bel taxi dietro Come quello dei film Guarda che belle luci Hotel New York Siamo intorno nell'albergo E guardate un po' cosa c'è qui Come si chiamano loro? Come si chiamano loro? Tu lo sai come si chiamano? Aeroman Aeroman Come? Aeroman 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 Allora abbiamo una bussa sorpresa Direttamente qua da casa di Topolino Che è? Che è successo? Che è successo? Un assaduo di Aeroman Un assaduo di Aeroman Sì È probabile Siamo pronti ad aprire il primo regalo 3 2 1 Oh un bel Topolino Oh oh ciao a tutti Benvenuti qui nel nostro canale 3 2 1 Oh le orecchiette queste di Pippo Mini Di Pluto Mini Mini Ma Mini ha le orecchiette? Sì Sei sicura? È vero? Sì Li mettiamo? Vuoi diventare Mini? Sì Se metti questi diventi Mini eh Vediamo un po' Oh oh che bella Poi Terzo regalo Oh rollo di tamburi Oh un bel cappello Ma questo mi sa che è per me No Ma che è tutto per te Ila? Ma questo è per me mi sa No Vabbè questo è il terzo regalo 3 2 1 Letterina che dici Una bella letterina Questa qua perchè è per schierare a Babbo Natale No Perchè domani viene Babbo Natale No Chiudi gli occhi Chiudo gli occhi? È il regalo per me questo qui dentro? Sono curiosissimo Vedo l'ora Vado? 3 2 1 Eccolo Carta Scusa a me la carta a te Topolino Va bene ma c'è un altro? Questo sarà sicuramente Eccolo qua Questo è Mio Che bello Che bello Carta Io sono cari Grazie finalmente Grazie Si regalò tu Ah grazie Me l'hai regalati Meno male Guardate che carini Sono dei portachiavi Che carini Vabbè Che c'è? Oh un altro No una calamita Questa è una calamita No Ila non è cioccolata Questo ragazzi è solo l'inizio Di questa fantastica avventura Che stiamo vivendo Quindi mi raccomando Non perdetevi assolutamente Papà C'è anche un altro regalo troppo di H Pesca 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 Il menù del bar è il mio regalo scusami eh Ma che schifezza è Ma auguri Ma auguri ma non è la mia festa oggi Metti il cappello Vediamo un po' Ila dove vai? Ila 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 Oh Allora che vuoi tu papi? Coca Allora una coca cola Ila Coca 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 life Zero Ok Adesso ci vediamo una cosa da bere Prima E poi andiamo in camera E vi facciamo vedere la camera Ciao amici Siamo qui in questo fantastico albergo di chi? Guardate che mi stiamo parlando a fare con Spiderman Che cosa ti ha parlando a fare? Oh Che saltone E' proprio così amici Siamo in questo fantastico albergo dei supereroi E ora ovviamente non possiamo che fare Un bel tour della stanza Per poi far vedere tutto l'albergo Che ne dici? Allora Questo è il nostro bagno Si Lego Cos'è questo? Lego Che è Lego? Lego Senti Oh Ah Lego Oh Sono io Ciao Allora Ila non apri che ti casca l'acqua in testa eh C'è una cosa che manca Vediamo se vedi Il... Come si chiama? Il bidet Il bidet Manca il bidet In Francia non esiste il bidet Perché in Francia non esiste il bidet? Allora fai vedere quella cosa ruffica Qual è? La cosa ruffica Perché che cosa c'è di sopra? C'è proprio lo scudo Non so se riuscite a vederlo Ma praticamente sulla saponetta C'è lo scudo degli Avengers Cioè dei supereroi della Marvel Ok Vediamo qui Questa è la nostra cassaforte La chiudo Si? Ma che cos'è questo? La cassaforte? Eh Abbiamo messo uno, due, tre, sette Uno Ila Guarda dentro c'è il tablet No 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 Aspetta Non si fa annullare Eh? Non si fa annullare Eccola Non è che abbiamo perso il tablet per sempre? Ah per annullare credo che va aperto e richiuso Allora Questa ragazza è una cassaforte Ok ora Per mettere Uno Due Tre Sette Poi Spingi for close Che vuol dire chiuso in inglese Sì Chiusa Molto bene Questa ragazzi è la nostra cassaforte Che avremo qui per tre giorni Ma non abbiamo nulla da metterci Non un tablet così Poi Qui abbiamo messo i nostri vestiti E' la prima volta torniamo a aprire questa porta Ma che cosa c'è in questa porta? Allora tiriamo questo Ila Non aprire perché mettica su questa è una stanza serieta dei supereroi Non lo sappiamo Che cos'è Forse è Iron Man, Spiderman Forse Forse Iron Man, Spiderman E ragazzi siamo a Disneyland Paris E qui Ma voi non sapete questo nome Ve lo dico Vai Capitano America Stiamo a Disneyland Paris Quindi ragazzi questo è il mondo dove tutto è possibile Quindi magari potremmo Anzi incontreremo sicuramente Spiderman e Capitano America Quindi rimanete connessi Ragazzi guardate quanto c'è sul schermo Ma siamo io e te questi Il nostro canale Hanno messo il nostro canale YouTube sul televisore Dimmi amore Vuoi caffè? Un caffè? Eh Ma prima facciamo vedere la stanza dei supereroi Vuoi caffè? No grazie adesso non mi va Ma che lo vuoi? Ma no non lo voglio Ma dai ragazzi qui c'è la macchinetta del caffè Ok Ma Te lo preparo il caffè ok? Guardate che belli i letti Guardate Qui c'è un quadro E qui c'è il quadro di Spiderman 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 Poi possiamo fare i salti che vogliamo Per esempio su letti Tipo Io lo voglio fare a Bella Ah Quanti cosa… Che ha trovato? Leo Oh si è Leo Ci ha fatto accompagnare tutto il viaggio Se avete visto anche il vlog precedente quello dell'aereo Avete visto che abbiamo preso Leo Quindi qual è la sfida da fare qui all'interno dell'albergo dei supereroi? Ok, io faccio il salto Allora facciamo una cosa, ho un'idea Facciamo un salto per uno I nostri amici decideranno Decideranno che è il migliore Quindi ragazzi sta partendo questa sfida Dei salti sopra il letto, da un letto all'altro Quanti salti facciamo per uno? Uno Solo un salto? Sì, due Facciamo tre salti per uno Ok Sei pronta? Sei carica? Aspetta, voglio fare il salto Sì? A mini E qual è il salto a mini? Spiega ai nostri amici questo salto qual è? Il salto a mini Ma aspetta, qual è la caratteristica di questo salto? A mini Uno Due Tre Salto polino Ma che schifezza No, non mi faccio No, basta, a me l'hai sprecato un salto Salto polino Aspetta, una prima cosa l'ho fatto E vado Tocca a me Ok ragazzi, tocca a me fare il salto Questo qua sarà il salto alla Spider-Man Quindi ora sto facendo il salto di Spider-Man Ditemi se per voi No, lo volevo fare io Eh? Non c'è proprio il salto Allora faccio una cosa Io faccio il salto di Spider-Man e quello lo fai anche tu Salto di Spider-Man Tre Due Uno Eeeh Ehi Rala, non vale Aiuto Aiuto Aiutatemi Aiutatemi Aiuto Aiuto Aiutatemi Aiuto Tocca a me Sto in mezzo incastrato Ah no, non mi salta sopra Aiutatemi Ma è possibile che ogni sfida che facciamo Devi sempre barare? Aiutatemi Salto di Spider-Man Tre Mi devo caricare perchè ti fruscerà Vai, tre Tre Due Uno Uno Anzi salto Dovete indovinare One Su Tre Via Ma che schifezza di salto Ma questa sfida non vale proprio nulla Papà Eh? Che idea? Che notizie se andiamo dentro l'albergo? Cioè? Cioè se giriamo per le stanze? Sì Andiamo? Andiamo Volete venire con noi a vedere l'albergo? Faremo una scherza alle porte di Super Roy Vuoi che bussiamo una porta? Sì Ilan E poi scappiamo però Quindi vogliamo fare questa cosa Ditemi se a voi vi piace Cioè ora busciamo, andiamo giro per l'albergo E bussiamo una porta a casa e scappiamo Che ne dite? Ilan Sei sicura? Io la sento delle voci Ma non è che ci cacciano via? Chi è? C'è gente Che facciamo? Bussiamo Eh? Alla porta da Ponte Scegliamo una porta su cui bussare Intanto andiamo Facciamo un giro dentro l'albergo Allora ricordiamoci la nostra 3, 2, 4, 6 E la ti ricordi 3, 2, 4, 6? Eh? Andiamo 3, 2, 4, 6 No, no, troppo vicino quella Non possiamo scappare Se no Fischietta Non siamo Non siamo noi C'è altra gente Non ci dobbiamo far scoprire? Io direi che siamo abbastanza lontani Per bussare una porta e scappare Però Scegliamo tra queste due Allora Siamo per bussare A una porta Io scelgo questa qua a destra No, io questa No, ma possiamo questa a destra Questa Eh? Questa Sei pronta? Amici siete pronti? Sono io Bussi tu Aspetta, aspetta Ila, aspetta, aspetta Poi scappa veloce Di là Ok Ma che ti frega Vai, bussa prima che arrivi la gente 3, 2, 1 Via Scarpa, scappa Ila Corri, corri Non è aperto, non è aperto Scappa, scappa Scappa Chi era? Eh non lo so chi c'era Ila Ma che fifora Ma che po' che ci fanno Ila Abbiamo solo bussato Eccolo No, nemmeno mi ricordo il numero Che numero era? 3, 2, 4, 6 forse 3, 2, 4, 6 6 Proviamo ad aprire Oh è verde Vai per fortuna Questo è il nostro nascondiglio Allora Quindi adesso ci prepariamo E andiamo a cenare Quindi vi portiamo al ristorante dei supereroi Quindi vi faremo vedere ragazzi Tutto quanto Quindi io sono felicissimo Che voi state vivendo con questa esperienza Quindi rimanete con noi E non lasciate assolutamente questo vlog Continua a vedere Siamo pronti per andare in albergo Ma già stiamo in albergo Vabbè siamo pronti di andare a cena Vi facciamo vedere un po' il tour dell'albergo Di supereroi Che ne dici? Di là Eh di qua Come vedete qua c'è un corridoio Chiari per primo dice Ma che ha una gara? Sì Chiari per primo dove? Lì Dove? 1, 2, 3 Via Io Scomento carico prima io Ma possibile Bisogna sempre correre con te Anche qui In vacanza Ilan Non è Non è che incontriamo Quelli che abbiamo bussato prima Ok Dobbiamo cercare il modo per andare giù Per farvi vedere Ovviamente L'albergo dei supereroi Dobbiamo chiamare l'ascensore Vai Prova Vediamo un po' Adesso vi facciamo vedere anche l'ascensore Chi è? Chi è che parla in francese? Buon so Buon so Saluta Ila Buon so Buon so Buon so Ok Allora siamo scesi al piano di sotto No Ila Morella Adesso dove dobbiamo andare? Allora facciamo fare un tour Facciamo vedere qualcosa Downtown o Manhattan? Allora Questo è Manhattan Ristorante Hilary dove andiamo a cena? Allora Manhattan o Downtown? No 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 Io prefisco questo ristorante No no Qua Io prefisco questo No qua No di qua No di qua No di qua No andiamo di qua Allora ti dico io andiamo di qua Ciao Non ci siamo visti per 5 secondi Allora guardate qui ci sono dei quadri Io ora non so di preciso chi sono Ma chi è Ila? Che non so Però mi piace Dove siamo? Al ristorante Siamo arrivati al ristorante E adesso andiamo a vedere cosa c'è da mangiare Che ne dici? Vediamo cosa possiamo scegliere Allora qua c'è a vedere del pane Guardate che bel buffet Lasciamo a vedere un po' il buffet Ok Questi sono gli affettati Poi Mila Che vorresti tu? Eh? Cosa? Vuoi quello? Io voglio Che vorresti tu? Il prosciutto cotto Solo il prosciutto cotto? Ma ci sono un milione di cose Guarda vieni là Quale? Ragazzi è pieno di cose E' veramente bellissimo Guardate Non toccare Non toccare Non toccare Oh ma sono i dolci di Capitano America Allora per se non so le polpette Allora cosa hai preso? Le polpette poi? Basta Come basta? Io vedo un panino con l'hamburger Come il Mac E la non puoi togliere il formaggio Ma se togli il formaggio Ma quella poi è tipo maionese Ma Ila che fai? Ma che stai facendo Ila? Vabbè ora te la do al cuoio dai A me piacciono molto le polpette Sì sì infatti a casa le mangio sempre Ma sono più buone Questo è quello che fa mamma? No Ma non fa male Ma non fa più sugo Ah c'è più sugo con quello di mamma? Beh effettivamente Un pochino Io invece ho preso Questo qua non so Secondo te che c'è qua dentro di là? Io non lo capisco proprio Tu Vincenzo che hai preso? Tacchino e patate al forno Ah dietetico E poi E poi E poi E poi la polpetta E poi guarda Guarda io ho preso Guarda qui Guarda la polpetta No la polpetta di Hillary Attenzione Guarda anche la mia polpetta Guardate la mia polpetta Come vola Guardate la mia polpetta Allora Guarda 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 Ma da dove sei passato? Da qui Ah Ah Ahia Ahia No mi sono sbagliato Papà Eh Ma chi è unilassonitino? Unilassonitino? Mi ha visto che ora sono? Vai dicon Luca Sono quasi le due Dio Dobbiamo tornare in camera Dobbiamo trovare FuofSUș найти me Ti ascoltiamo in due due nascondigli diversi ah va bene ok mina quanto devo contare? anche mina sessi a due va bene uno, due tre, quattro cinque sei sette otto, nove dieci chi sta avanti, chi sta dietro, faccio dare a tutti quanti perché poi non basta che devo cercare devo cercare anche topolino forse è qui? no forse non è qui ah ah, lo so io dove è lo so io, sono sicuro sono sicurissimo ragazzi che sta dietro all'albero di Natale no, meccano ma non c'è nessuno c'è il figliere lì là non è qua io Hillary, eccoti non ho sicuro non ho sicuro tui tui Ma non è possibile, ma se io lo stavo Io mi ho scorsata Ma non come ho fatto il mio tetapolino Lui è da là Dove? Lì, dietro al posto Ma ho cercato lì, ho chiesto anche informazione al signore E ho detto mi scusi ma lei che ha visto una bambina Mi ha detto uai 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 Forse non è italiano E allora mi ha mandato lontano 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 Ho visto il papo Natale Poi ho incontrato Spider-Man Scusa Spider-Man Ha visto per caso una bambina alta su per giù Così Torniamo in stanza Allora Ho chiesto miau Eh? Ho chiesto miau Miau? C'è un gatto in camera? Ah, era un video Noi ragazzi siamo veramente Stanchi Siamo stanchissimi Stata una giornata lunghissima Ma molto bella Ovviamente se siete curiosi di vedere altro Andate sul nostro profilo Instagram Eccolo qui Questo è il nostro profilo Instagram Seguitici e così potrete vedere le foto Che stiamo pubblicando le storie e cose varie Quindi seguitici anche su Instagram Allora ragazzi Io sono stanchissima Adesso Mi sa che voglio dormire Allora amici Mi raccomando Iscriviti al canale Perché non potete assolutamente perdervi tutti questi video La miau Mi ha dato un bel like Questi video a Disneyland Paris sono fantastici Andate a vedere il video che abbiamo messo ieri E ci vediamo domani Con un altro nuovissimo video ragazzi Ci saranno tanti supereroi Tante cose proprio qui dall'hotel di Disneyland Paris Quindi ragazzi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video Ciao 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 Ciao